Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare una semplice ma efficace piattaforma per videoconferenze che non necessita, come vedete qui dal titolo del video, che non necessita di nessuna installazione per funzionare. Questa piattaforma si chiama Jitsi Meet Ecco, in inglese Meet come Meeting che richiama appunto un incontro, una conferenza. Ecco, allora, di cosa si tratta? In sostanza l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è un indirizzo internet per poter iniziare, aprire questa conferenza che noi vogliamo gestire e alla quale vogliamo partecipare. Su cosa si basa questa piattaforma di videoconferenza? Si basa appunto su una soluzione puramente web Ecco perché non necessita di installazione di nessun programma, di nessun plugin di niente sul vostro pc né nel vostro browser, nel vostro navigatore web. Quindi è una soluzione appunto web pura che usa tecnologia, diventata ormai standard, web RTC ovvero web real-time communication. Ecco, questo è diciamo l'aspetto tecnico che sta dietro le quinte di questa piattaforma che ci permette appunto di connetterci in modalità video e audio. Uno con l'altro, in qualsiasi parte del mondo ci troviamo. Quindi, ripeto, nessuna installazione è richiesta, né di programmi né di plugin perché appunto il tutto si svolge nel browser grazie a questo protocollo, questo standard web RTC. Basta usare dunque un browser che supporti web RTC e oggi come oggi sicuramente i più diffusi come Chrome, Chromium, come quello che uso io e Firefox e sicuramente anche Opera e altri browser più o meno noti sicuramente supportano oggi come oggi questa tecnologia, questa tecnologia web RTC. Quindi direi che la maggior parte di noi sicuramente usano o Firefox o Chrome, Chromium quindi non c'è nessun problema. Quello che vi presento in questo video potete metterlo in pratica sicuramente da subito. Come si fa? Si accede a questo link. L'unica cosa di cui avete bisogno è questo link che ho già aperto qui sullo sfondo del video che vedete qui sul schermo del mio PC. La prima volta che fate clic su questo link che ovviamente vi lascio nella descrizione del video dicevo la prima volta il vostro browser si accorge appunto che è la prima volta che volete accedere a questo sito e che questo sito necessita di utilizzare o meglio vi chiede se volete lasciargli utilizzare la vostra webcam e il vostro microfono. Vedete qui in alto a sinistra l'avvertimento quindi questo indirizzo vuole utilizzare la tua fotocamera quindi la webcam nel mio caso PC portatile, webcam integrata nello schermo se avete un PC da tavolo con la webcam USB connessa e poi la stessa cosa comunque fotocamera e microfono ovviamente perché le videoconferenze si svolgono sia in audio che in video e quindi vi viene chiesto, vi esce questo avviso e vi chiede se volete evitare di far usare la vostra webcam oppure se volete consentirlo. Ovviamente noi vogliamo consentire se vogliamo usare questa piattaforma di videoconferenza quindi facciamo clic su consenti e questa è solo la prima volta poi nelle impostazioni del vostro browser verrà memorizzato questo link con diciamo la risposta si puoi usare la webcam quindi dalla seconda volta che aprite questo link non vi verrà più chiesta l'autorizzazione quindi faccio clic ecco che mi si attiva la webcam e vedete che sono apparso io qua dove ecco eccomi qua sono apparso perché ho consentito a questo programma questa piattaforma di usare appunto la webcam e l'audio del microfono integrato con la webcam ecco. Quindi dicevo dalla seconda volta il vostro browser ha memorizzato la preferenza e non ve lo chiede più. Facciamo la prova, spengo, chiudo il link, interrompo, faccio di nuovo clic qui sul link tra un attimo si riapre e vedete che appaio direttamente io non mi chiede più l'autorizzazione se vi interessa annullare questa autorizzazione quindi tornare al punto di partenza perlomeno per quanto riguarda le impostazioni di Chromium vi posso far vedere dov'è quindi voi aprite le impostazioni qua si apre la scheda delle impostazioni aprite le impostazioni avanzate quindi quando aprite le impostazioni vi trovate così con delle impostazioni minime e limitate fate clic qua in fondo su impostazioni avanzate vi si aprono le impostazioni avanzate e scegliete sotto la categoria privacy impostazione contenuti vi si apre un'altra finestra e andate praticamente scorrete il contenuto di questa finestra finché trovate il paragrafo multimediali ecco qua multimediali e qui cliccate su gestisci eccezioni e vedete che fra le varie eccezioni adesso è presente il mio link che ho appena usato vedete https meetgit.si eccolo qua con su audio e video le due categorie consenti e consenti quindi questo per il browser vuol dire che ho accettato di fargli usare la webcam e il microfono per l'audio e quindi d'ora in avanti lo consentirà senza più chiedere nulla posso appunto tornare al punto di partenza cancellando questa autorizzazione da qua faccio clic su questa crocetta sparisce l'autorizzazione della prossima volta che riapro il link mi richiederà nuovamente l'autorizzazione ecco questo per quanto riguarda chromium per quanto riguarda firefox non ce l'ho installato quindi immagino sia una cosa più o meno simile nelle impostazioni corrispettive di firefox quindi ti ho fatto vedere anche questo eccomi qua sono tornato in diretta video e audio questa volta proprio per questo video e il prossimo punto della scaletta appunto è quello che vi ho appena mostrato ovvero che chromium e anche gli altri browser chiedono la conferma per poter utilizzare la webcam ecco qui parlavo a dire la verità di due conferme perché poco tempo fa probabilmente in una versione precedente di questa piattaforma Jitsi Meet chiedeva due conferme separate una per l'audio e una per il video adesso usandolo proprio mentre sto registrando il video mi accorgo che la richiesta di autorizzazione è una sola sia per l'audio che per il video quindi in realtà la scaletta dovrei modificarla anzi la modifico la prima volta chromium chiede conferma ecco per poter inviare sulla rete il canale audio e quello video della webcam adesso diciamo che è allo stato attuale quindi è più corretto che la mia scaletta parli in questo modo ecco e quindi questo è quello che abbiamo appena visto poi quando appare la propria immagine quindi come siamo adesso che vedete me qui nel video quando appare la propria immagine ci si deve assegnare un nome quindi un nickname diciamo un nome che appare in rete anche agli altri partecipanti della conferenza video quindi ci si assegna un nome in modo che sia possibile invitare gli altri e che voi vi distinghiate con il vostro nome assieme a tutti i partecipanti ecco per darsi un nome si viene qui sulla miniatura della propria immagine vedete che io me lo sono già assegnato il nome comunque si fa clic qui sulla matitina qui sulla destra in basso a destra della miniatura clic il campo diventa editabile e voi potete darvi il vostro nome ecco enter e vi siete dati un nome adesso in questa videoconferenza in questa sessione di videoconferenza voi avete io per esempio il nome Nicola altri può essere il loro nome naturalmente ecco la conferenza adesso è attivata cioè io l'ho iniziata perché sono il primo partecipante voglio invitare altri partecipanti come faccio? semplicissimo vengo qui sulla palettina qui in alto degli strumenti e mi trovo questo simbolo del link per invitare gli altri vedete? invite others faccio clic qui e mi appare il link da inviare via mail o via tweet via quello che volete voi qualche mezzo di comunicazione inviate questo link a coloro che volete far partecipare alla conferenza man mano che i partecipanti ricevono quel link fanno clic e vengono aggiunti a questa stessa pagina quindi qui in basso appariranno man mano le miniature degli altri partecipanti quindi voi come in altre piattaforme di conferenza tipo google hangout e altri skype immagino avete delle miniature coi partecipanti sui quali fare clic per farli apparire qui più in grande qua sopra adesso sono da solo ovviamente ma avessi invitato già altri avessi scusate io ho invitato già altri partecipanti potrei cliccare sulle loro miniature qua in basso per farli apparire più in grande qua in alto ecco la conferenza ovviamente è aperta a tutti coloro che conoscono il link ovvero questo link naturalmente cambia ad ogni apertura del sito perché se io chiudessi a questo punto questa sessione di videoconferenza e riaprissi un'altra volta questo sito il link naturalmente cambierebbe ogni volta viene generato un nuovo un nuovo link e quindi tutti coloro che ricevono questo link sono liberi di farci clic e quindi di entrare a far parte della videoconferenza senza nessun problema si può anche renderla più privata questa conferenza mediante una chiave ulteriore per poter partecipare da fornire ai partecipanti quindi scelti a questo punto come si fa c'è questo sempre qui nella paletta degli strumenti c'è questo simbolo del lucchettino aperto per aprire o chiudere la conferenza quindi se io faccio clic sul lucchettino posso impostare io una chiave quindi imposto una chiave vabbè adesso così giusto per mostrarvi imposto questa chiave vedete che il lucchettino l'icona non è più aperto ma è chiuso perché adesso la conferenza è chiusa cosa vuol dire? che non è più sufficiente questo link per poter entrare nella videoconferenza ma i partecipanti devono anche conoscere e sapere qual è la chiave che io ho impostato quindi diciamo che in un primo invio posso mandare il link della conferenza chi intercetta chi riceve per sbaglio questo link può fare clic ma non può entrare nella conferenza perché solo coloro che ricevono la chiave pippa compostato prima per intenderci potranno effettivamente entrare quindi impostando in due passi l'entrata nella videoconferenza adesso rimuovo la chiave e vedete che il lucchettino torna aperto quindi la conferenza torna libera a chiunque che conosce il link della videoconferenza poi vediamo gli altri simbolini qui della palettina degli strumenti quindi da sinistra verso destra vediamo che c'è il microfono a cosa serve? evidentemente serve per attivare o disattivare temporaneamente il suono quindi faccio clic in questo momento la mia voce non arriverebbe più agli altri partecipanti della conferenza riattivo l'audio rispettivamente l'immagine video posso bloccarla vedete che la mia immagine sia nella miniatura che nell'immagine grande si è congelata fermata lì perché non sto più trasmettendo l'immagine video agli altri partecipanti rispettivamente posso riattivarla vedete che sono tornato a muovermi in diretta il lucchettino l'abbiamo già visto sappiamo che per chiudere la conferenza aprirla il link ovviamente per invitare i partecipanti poi come dico qui nell'ultimo punto allo stato attuale è possibile lo stato attuale dico perché questa piattaforma è in evoluzione è comunque ancora in sviluppo è addirittura in stato beta però funziona benissimo come potete vedere è stabile è tutto e allo stato attuale dico è possibile chattare con i partecipanti e anche collaborare la stesura di documenti come quindi visto che la mia scaletta è terminata la posso anche nascondere così si libera lo schermo come si fa a chattare andiamo sempre da sinistra verso destra a vedere il prossimo pulsante che è open chat ecco open chat vi permette di chattare appunto vedete si è aperto qui in basso a destra un campo in cui io posso scrivere quindi chattare parlare eccetera eccetera faccio enter invio il mio messaggio scritto testuale tipico della chat normale in rete e tutti i partecipanti quindi immaginatevi che qui ci siano altri partecipanti vedranno il mio messaggio a loro volta gli altri partecipanti dovranno cliccare su questa icona della chat per aprirla e poter rispondermi quindi può darsi che io da qualcuno riceva poi una risposta da qualcun altro eccetera e qui si chatta mentre ci si vede anche tutto inglobato per spegnere la chat clicco di nuovo su quel pulsante vedete che appare scompare rispettivamente io posso questo credo che sia per c'è un sito credo per condividere non lo so se immagini o no io non l'ho mai sentito quindi non so dirvi magari qualcuno lo usa prezzi.com non saprei non sono andato a vedere di cosa si tratta questo prezzi.com potremmo anche andare a vedere non ne ho la più pallida idea credo che sia per condividere immagini o roba del genere francamente non sono andato a vedere non mi sono ricordato di informarmi prima di iniziare il video vediamo un po' prezzi.com ah create zooming presentation that make more engaging ok sembra sia un sito per creare e gestire delle presentazioni tipo powerpoint o impress per intenderci online adesso non andiamo a indagare troppo perché non è lo scopo di questo video comunque è possibile anche condividere o documenti o tipi di penso presentazioni fatti su questo sito online prezzi.com ecco va bene poi questo è quello di cui parlavo nella mia scaletta è open sharing documents cliccate qui si apre un editor di documento nel quale è possibile scrivere un documento in comune a più mani ecco qui vedete che io sono l'unico partecipante della conferenza in questo momento ma ci fossero altri partecipanti il numerino qui aumenterebbe qui si può fare delle impostazioni e l'editor è questo praticamente io qui posso scrivere vedete che il testo scritto da me mi è stato assegnato questo colore rosato o rosa o un rosa salmone ecco io posso mettere il mio nome lì diciamo che tutto quanto nick scrive appare così perché si riconosce che è il mio intervento ci fosse un altro partecipante avrebbe sicuramente un altro colore che può anche essere modificato come vedete qua io posso anche cambiare il colore della mia partecipazione verde diventa verde il mio contributo ce ne fosse un altro il partecipante andrebbe avanti a scrivere magari che ne so in giallo così si riconosce che il tal dei tali che è scritto in giallo che ne so pippo brutto paperino ecco avete capito quindi qui si può collaborare alla stesura di un documento ci sono anche degli strumenti di formattazione vedete il grassetto il grassetto qui si può tornare avanti e indietro ad annullare quanto si è fatto elimina i colori che indicano gli autori ecco il verde così può diventare comodo poi si può anche eliminare i colori e quindi non si riconosce più chi ha scritto cosa però appena ricomincio naturalmente il mio colore mi viene di nuovo assegnato qui si può fare dei elenchi puntati numerati c'è un minimo di formattazione quindi poi qua si può importare o esportare file vedete il documento che noi scriviamo qui lo possiamo anche salvare rispettivamente esportare appunto in vari formati vedete oppure importare anche un file quindi partire da un file che magari io ho sul mio pc voglio condividerlo con gli altri migliorarlo completarlo posso scegliere un file dal mio pc importarlo e partire da lì per iniziare a modificarlo assieme agli altri qui ci sono alcune impostazioni i colori che indicano gli autori numeri di riga eccetera eccetera leggere il contenuto da destra a sinistra per chi scrive gli alfabeti da destra a sinistra tipo di carattere normale eccetera eccetera o larghezza fissa c'è un minimo di possibilità dell'editor minime qua e qui possiamo gestire appunto dei documenti in comune clicco di nuovo sull'icona un po' come tutte queste funzionalità clicco e riclicco si attiva o si disattiva l'ultima funzionalità è quella per andare a schermo intero quindi ingrandire ancora un po' di più la superficie dell'immagine non delle miniature ma dell'immagine principale e anche dell'editor del documento eccetera eccetera ecco la chat anche lei funziona sempre uguale quindi posso uscire ricliccando dal dallo schermo a schermo intero e ecco prendete tutto vedete che è molto semplice molto efficace ripeto non dovete installare assolutamente nulla conoscere solo questo indirizzo con il vostro browser e siete pronti per fare le vostre videoconferenze costo zero molto efficace leggero funziona benissimo perché ho provato anche con più persone ovviamente non è il caso questa sera in questa occasione io vi devo solo mostrare tecnicamente come funziona poi voi siete ovviamente liberi di usarlo come volete perché è una piattaforma libera non bisogna iscriversi nulla voilà con questo ho concluso anche questo video visto che io in immagine diretta nei miei video appaio molto molto raramente ne approfitto visto che ci vediamo una volta tanto a quattro occhi ne approfitto anche per ringraziarvi tutti assieme per le vostre iscrizioni sul mio canale che ormai hanno superato le mille iscrizioni e per me è una cosa per un canale così piccolo settoriale specifico in italiano è una cosa incredibile che siate diventati così tanti in così relativamente poco tempo ecco quindi vi ringrazio tutti voi mai sapete che quando vi iscrivete io non non rispondo mai ad ognuno grazie 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 uno a uno ma in queste occasioni ne approfitto comunque per ringraziarvi per appunto esservi iscritti a questo canale ecco con questo ho davvero concluso vi saluto e alla prossima ciao ciao